Il pandemonio teatro festeggia i suoi 30 anni di attività, è un'impresa sociale dedicata alla produzione in particolare per i bambini, le scuole, le famiglie, gli adolescenti e i giovani e questa vocazione la esercitiamo in tutti i luoghi dove operiamo da così tanto tempo. I bambini hanno bisogno del teatro, hanno bisogno di venire a teatro perché il teatro comunica ai bambini più di quanto le parole non possano fare. Per questo motivo per un bambino fare teatro è un momento di crescita e di conoscenza di se stesso. Vogliamo che questo teatro diventi una casa e un punto di riferimento per il quartiere e per la città e allora vogliamo che questa struttura diventi accogliente perché per poter diventare casa deve cambiare. Pandemonio in teatro ha indetto una campagna di crowdfunding dove voi i cittadini di questo quartiere, di questa città insieme possono far crescere un bene comune. Ognuno anche con poco può partecipare alla realizzazione di un grande sogno dove ogni contributo diventa veramente ma veramente molto prezioso. L'attività principale è rendere confortevole lo spazio del teatro sia per quanto riguarda chi parteciperà e chi vedrà le rappresentazioni del pandemonio in teatro che chi invece le organizzerà dal punto di vista tecnologico. Noi oggi abbiamo dei genitori che vengono con i loro figli a teatro la domenica pomeriggio. Questi genitori sono i bambini che 30 anni fa venivano a teatro con la scuola e con i loro genitori. C'è qualcosa di straordinario in questa capacità di un pubblico che riproduce se stesso insieme ad un teatro che continua a riprodurre e a produrre cose nuove dedicate a loro. Aiutando noi a far nascere un teatro aiuti una comunità ad avere uno spazio, un luogo e un tempo per far sentire la propria voce. Ti chiediamo di entrare a far parte di questo sogno insieme a noi di essere partecipe di questo sogno. Aiutaci e vedrai che questo sogno si realizzerà. Non potremmo esistere senza di voi e per questo ci appelliamo alla vostra attenzione, alla vostra sensibilità proprio perché insieme costruiremo una cosa nuova e abbiamo bisogno di te.